Amici di Maria De Filippi ha aperto i battenti della fase serale, riaccogliendo i tre giudici della passata edizione, Stefano De Martino, Stesce e Emanuele Filiberto di Savoia. Quest'ultimo ha scelto la busta del sorteggio. La squadra pescata è stata quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la compagine capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Così è iniziata la nuova stagione del serale che ha sancito l'eliminazione definitiva di due concorrenti, Alice e Amici 21. Il crollo di Alice. Alice, nel momento in cui ha appreso di essere stata eliminata, è stata pervasa dallo sconforto, finendo in una valle di lacrime. A supporto della giovane, sin dal suo ingresso nel talent particolarmente insicura e fragile, si è sempre sentita in difetto perché proveniente dal mondo della ginnastica ritmica e, dunque, convinta di essere meno preparata dei suoi compagni, ha preso parola a Maria De Filippi. Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all'ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più. La danzatrice, profondamente scossa, ha faticato a trovare le parole, strozzate in gola dal pianto. Addirittura, a un certo punto, ha provato a celare lo sguardo, continuando a guardare a terra. Sono realista, sono consapevole che sarei stata. Sapevo di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare. È riuscita a sussurrare prima di congedarsi. Amici 21, serale, prima ma anche, trionfano Zerbi Celentano. A rompere il ghiaccio sono stati Luigi e Albe, con il primo che è stato preferito dai giudici. Zerbi Celentano vs Pettinelli Peparini. 1 a 2, dopodiché calma LDA, con un duetto, hanno gareggiato con il ballerino John Eric. La giuria ha preferito quest'ultimo che ha riportato la sfida sull'1 a 1. Si è quindi giunti al guanto di sfida che ha visto contrapposti Luigi e Criticol. E, un guanto equilibrato perché entrambi sono musicisti e non dovrebbero avere difficoltà, ha sostenuto Zerbi. Questo non è un guanto equo, ha tuonato la Pettinelli che ha considerato l'idea di Rudy non equa per Criticol. La giuria ha però dato ragione a Rudy. A questo punto il team Pettinelli Peparini ha dovuto affrontare la prima eliminazione del serale. Si sono esibiti Alice, Dario e Albe. Ad avere la peggio e a finire fuori dai giochi è stata Alice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.